Salve a tutti e benvenuti in questo dodicesimo epi... Capelli... T'ho perso i capelli! Episodio di Pokémon Diamante Naslock! E siamo giunti qui, e sì magari... Ma ho mandato sto coso per vedere i Pokémon alla pensione, sono già cresciuti e vediamo se abbiamo abbastanza Pokémon per catturare qualche nuovo Pokémon e aggiungere al nostro... E va a coccà, forse un po' troppi... Comunque grazie per... Volevo intanto salutare Luigi Renzi e quindi adesso possiamo partire Però dobbiamo scendere dalla bici perché voglio prima vedere il Pokémon che si trova qua Vorrei scendere... Grazie! Mamma mia c'è... Niente Pokémon oggi! Allenatori! Allenatore ovunque, va bene! Va bene! È tutto sudato! Con Ipom! Ipom! Adesso Ipom su cà! Ma io non ho messo i suoni! Ma sono scemo! Ora... Ora va meglio! Non ho curato la squadra! Ma quanto sono ibecille oggi! Sono a livello 32 e... Sì! Punto! Giraffa Ring! Ehi amica! Livello 3, 3, 3, 3, 3, 3... Comunque io sono diventato imbattibile e nessun po' come mi ammazzeranno... Cioè non mi ammazzeranno più nessuno! Sono troppo forte! Boom! Sì! Ce l'ho fatta! Calacca si sta evolvendo! Non ci credo! Non ci credo! Come ho fatto? È difficile eh! Fare amicizia! Ho Crobat! Calacca Crobat! Vai! 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 Primo Pokémon! Attenzione! Fermi! Allora in teoria io ho Gabite! Quindi si può considerare lo stesso Pokémon! Quindi non vale! È nei regolamenti della Naslock! Potete andare a cercare cosa! Se un Pokémon si è già catturato! Ovviamente non si può catturare un'altra volta! Chi sarà il Pokémon? Per la stessa regola che vige che essendo un leggendario posso catturarlo, devo cercarne un'altra! E non sto inventando balle eh! Non sto inventando balle perché all'inizio della serie ho detto se incontro un Pokémon leggendario lo posso catturare o anche se ho già catturato un Pokémon in quella zona lì! Quindi essendo però che ho trovato quello lì il primo Pokémon non vale! Mamma mia! Mi sta salvando il culetto tutto! Quale sarà il primo Pokémon? Miwa! Mawile! 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 Mamma mia! Mentalità Pokémastica! Usiamo acqua di sale! Incrociamo le dita! Entra dentro la Pokéball! Tè! Tè! Abbiamo preso Mawile! 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 Un po' di tipo acciaio! Lotta in doppio! Le cose che odio di più dalla vita! E che metto dai! Facciamo allenare un po' Gabite! E basta il Lapras! Dai! E vabbè dai! È facile! Però se è a livello 21 bisogna stare attenti! Ho la squadra un po' deboluccia! Pantanobomba! Quasi shottato! Ma non è detta... Oh ma si scema! Oh ok bravo! Oh! Ecco! Fanghiglia! Perché non ti sei fatta ammazzare? Ciao Gle Miao! Le... Lì ci sono altre due! Non ci vado! Mi dispiace! Oh ma signora! Le prende... Secondo lei! Non si fa così! Oh c'è Cleppa! Boom! 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 Curiamoci la squadra che è meglio! Ho un branco di... Spidak! 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 Ok basta! Ti do il benvenuto in questo luogo! È per me la frutta di Joyergo! Sì ok! Benvenuto! No! Ti sfido! Benvenuto in questo paese vuol dire ciao ti sfido amico! Vieni pure che il tranquillo ti è massacro di botte! Ciao! Chi è il benvenuto adesso eh? Buongiorno! Ti sfidano tutti! Sai come l'ammazzo su Dovudo? Sai come l'ammazzo? Schiacco le dita ed è morto! Lo giuro eh! Già! Due volte! Tre volte! Il potere dello schiacco delle mie dita è sovrumano! Ma che pasta! Pasta? Ciao! Oh come boato! Vabbè peggio per te! Boom! Prima che sia troppo tardi me ne vado! Allora! Andiamo per questo percorso! È un nuovo percorso! Quindi? Quale sarà il primo Pokémon di questa zona? Mmm! Interessante! Bene bene! Bene bene! Allora 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 Come lo possiamo picchiare? Lo picchiamo con Oh ma è di tipo erba! È vero! Mi ammazza è vero! Forse è meglio cambiare Pokémon Non lo catturerò mai! Assolutamente mai! Stavo scherzando! Io direi di mettere Gabite come primo Pokémon Non lo so Mi attira una cosa del genere Proviamo ad usare Geoforza Ma credo di faccia poco Super efficace! Stavo scherzando! Ciao ciao! Livello 27! Vai così! Hai ottenuto MT66! Ok! Ma MT61 contiene Zaru per caso? Visto che si tratta di Pokémon Di tipo lotta ai prossimi Direi di mettere Kalak Anche se è abbastanza forte C'è un Krogank! Cavolo livello 25! Boh basta! È sciottatissimo! Basta! Così finisce! Deve essere importante! Devo prendere quella Pokéball! Ciao! 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 Livello 34! Vabbè! Super Guardia! No! No! Volevo lui! Volevo lui! Volevo! Volevo l'uomo! Fate schifo tutti! Fate schifo! Onda Shock! Buona mossa! Livello 16 idratini e livello 15 smonlima! Ok! 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 Può sembrare strano! Ma non lo è! Adesso vi lancio una Pokéball! Lo catturo! Immaginatevi! La scena! Attenzione! Vediamo Exit! Che spreco una Pokéball! Grandissimo Exit! Mamma mia! Uno! Ha fatto uno! Già è tanto eh! Però questi due mi hanno dato la speranza di continuare! Quindi continuiamo! Vai Pokéball! Io fisso la telecamera! Basta! 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 Lotto in doppio psichica! E quattro Pokéball! Cos'è? Perché? Perché in Monferno? Ti ho ammazzato Glemiao vero? Sì! E Glemiao non c'è più! E livello 30 Slapras 2! Geridors! Vai! Geloscheggia! No! No! Cambio Pokémon! Mi scusi! Non volevo! Testa bassa! Tanto tu usa pure Fragortempo contro Geridors! E tu scappa il più lontano possibile e metti Joltio! Va! Ciao! Oh! Rupepoli! Il cove del team Coscos! Nel deposito c'è la macchina nascosta che insegna la mossa a volo! Grazie! Lo sei in da! Exit! Accetterai la sfida della palestra e diventi sempre più forte! Non è vero? Io! Beh! Sono venuta a fare spese in commerciale! Sì! Brava! 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 Ciao! 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 Cosa? Si può entrare in palestra? Si può fare la palestra! Buono! Allora è debole a psico e volante! Mettiamo l'Apras così subisce anche meno danni fisici! Perché è più forte! Difesa alta! Cioè a Macioc sarebbe meglio usare Golbat in effetti eh! Quindi grazie a tutti per avermi visto! Io sono ExitMai77! Spero che questa video vi sia piaciuto! E ci vediamo al prossimo! Con un poco di briciole la... Zucchero! Con un poco di zucchero la pillola va giù la pillola!